Uè! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi tantissime novità anche oggi per quello che riguarda il futuro di Fortnite, i prossimi giorni dove ne vedremo davvero delle belle! Nel video di oggi infatti ragazzi i leaker si sono dati da fare alla grande e vi parlerò della nuova modalità assalto alla spiaggia con tanto di immagini e tante tante novità un po' spoilerate non credo involontariamente tra cui il nuovo fucile a pompa ragazzi! Ci provano in tutti i modi a rimpiazzare il pompa del nonno ma forse questa è la volta buona diciamo che si sono un pochettino resi conto di aver fatto una pistolata! E ragazzi in ultimo il Neo Pack! Qualche giorno fa vi avevo fatto vedere lo Shadow Pack il concept più veritiero secondo me e secondo molti leakers a livello mondiale ma questo pack è esploso nella community su Reddit dedicata a Fortnite e non può essere ignorato dal team ufficiale di Epic Games! Prima però voglio ringraziare tutti quelli che ogni giorno supportano il canale con il codice XIUDERONE! Grazie di cuore ragazzi per scioppazzare di prepotenza nello shop! Mi raccomando iscrivetevi in tantissimi e soprattutto... Attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima è la domandina raga e ve la devo fare la domandina che ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti qui sotto ed è una domanda che non vi ho ancora fatto infatti ho detto AXIUDER ma non gliel'hai ancora fatta ve la faccio adesso ma come diamine ti sembra la nuova inversione tempesta ragazzi? Dai ditemi un pochettino oramai l'abbiamo già provata molti hanno capito tranne me bene come funziona no diciamo le tecniche corrette per l'utilizzo a te come sembra questa nuova granata? Chiamiamola granata secondo me è veramente utile in endgame perché per il momento una volta me la sono tirata sui piedi e sono morto una volta l'ho tirata e ho ammazzato mio compagno quindi per il momento io non riesco ancora a focalizzarla in game Ditemi invece la vostra opinione qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito a vedere questa meravigliosa immagine dedicata alla modalità beach assolt Intanto si vede che è ovviamente uno scenario di guerra un attacco proprio alla spiaggia beach assolt vuol dire attacco alla spiaggia e abbiamo anche una descrizione che è in inglese che in poche parole dice La guerra è quasi finita affronta le difese della spiaggia e distruggi il cannone del giorno del giudizio quindi ragazzi the doomsday cannon potrebbe essere l'obiettivo della missione della LTM oppure organizza un'ultima difesa per tenere a bada gli avversari Questa descrizione ci lascia capire come anche il paragrafo sotto che ci sono due fazioni attaccanti e difensori e qualora fossimo invece nella parte dei difensori ci dice Difensori raggiungi il muro e aiuta le sentinelle a respingere gli invasori Quindi torna indietro quando è necessario e cerca di proteggere l'obiettivo Potrebbe essere ragazzi questa una LTM di prova per la modalità capture the flag quindi la bandiera Diciamo protezione dell'obiettivo Probabilmente devi sopravvivere per un tot di tempo Non è proprio la versione classica di cattura la bandiera nei videogiochi dove si spara però ci si potrebbe avvicinare Questa però immagine ragazzi guardate un pochettino proprio questo tizio ve lo faccio vedere Imbraccia un fucile a pompa che non è mai stato visto in game ragazzi abbiamo addirittura un'immagine molto più zoomata Ed eccolo qua ragazzi nuovo fucilozzo a pompa Ovviamente credo che si parli proprio del battle royale Se mi mettono il fucile a pompa nuovo su salva al mondo gli brucio la sede gli brucio porca miseria E sembrerebbe che si avvicina molto al concept del fucile a pompa normale ragazzi Il pompa del nonno in poche parole non si sa assolutamente nulla di quest'arma se non appunto queste immagini Quindi io ve le faccio vedere siete i primi a saperle e appena ne saprò di più lo saprete anche voi Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo invece del prop homatic Che è un'altra arma presente e potrebbe essere relativa ad una nuova ltm o invece a save the world Voglio intanto farvi vedere una cosa ragazzi guardate un pochettino Eccomi qua c'è proprio un gameplay dedicato al propometic lo abbiamo disponibile in game Eccolo qua quindi molto compatto dai raga è l'arma di marvin il marziano qua parlo con quelli che sanno Chi è marvin il marziano chi giocava a looney tunes su playstation 1 marvin il marziano Imbracciava quest'arma dovrebbe essere il propometic un Duplicatore se mi passate il termine ragazzi cioè un'arma che copia Qualcosa però la cosa un po' particolare di questo propometic è potrebbe anche non essere quello che ho detto La spiegazione ci sono delle righe ragazzi relative a quest'arma che vuol dire il team hunter Deve usare il proprio ingegno e le proprie armi per trovare ed eliminare i fastidiosi oggetti di scena Qua ragazzi io continuo a pensare ai looney tunes perché vi ricordo vi giuro quando ero ragazzino Che c'erano i looney tunes si parlava c'era marvin il marziano negli oggetti di scena Siate consapevoli gli oggetti di scena emettono un suono ogni 15 secondi Quindi molto probabilmente anche qua una nuova modalità In arrivo cercheremo di capirne qualcosa di più Non appena anche io ne saprò di più Ma ragazzi tenetevi forte Pront guardate che meraviglia Guardate che spettacolo Per gli occhi se eravamo abituati alle skin light show e luce notturna Beh queste ragazzi pisciazzano in testa proprio Gli pisciazzano in testa ragazzi super mega concept del bundle per la season numero 9 Il neo legend pack Ovviamente come vi ho appena detto è un concept è un utente che ha creato questa meraviglia Ma la community è esplosa Io vi chiedo proprio così come vi sembrano queste skin ragazzi Ha fatto oltre a queste skin anche il concept della copertura per armi e veicoli E devo dire che gli è uscito un qualcosa di veramente molto molto figo ragazzi Io fossi Epic Games ovviamente ha drizzato le antenne E si è resa conto che c'erano migliaia e migliaia di persone Che mettevano like e che condividevano questo concept Speriamo che in game possa davvero diventare realtà E quindi scioppazzarlo Penso che lo prenderei Sì perché dai ci sta veramente tantissimo Ma chiudiamo ragazzi con un'altra notizia e una curiosità Se avete guardato la World Cup Sicuramente lo avrete visto Il precaricamento della World Cup Vi consentiva ragazzi di giocare a un piccolo videogioco in stile vintage Ve lo voglio fare vedere perché è davvero super super divertente Con tanto di suoni ragazzi Guardate che storia Non è male Poi io sono un appassionato dei giochi vintage Vedere queste cose Per tutti quelli che aspettavano Che lo streaming si caricasse Era possibile quindi giocare e divertirsi Con questo piccolo minigame Che è stato messo in disposizione A tutti quelli che volevano Da parte di Epic Games Beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo Per avere guardato anche questo video Mi raccomando Un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo in live Alle 8 8 e un quarto Ciao Noi ci vediamo in live Noi ci vediamo in live